Devo dire che nella storia della Roma è la prima volta che è arrivata in finale di Champions, è arrivata in finale nell'80 e passa, non lo so, in senso tante abitudini a queste partite non ci sono, però questo è un momento di crescita e poi ribadisco per l'ennesima volta che non è finita, non è finita e l'abbiamo già dimostrato in passato. Per quello chi non ci crede per me può stare a casa, ma anche sopra gli spalti in generale, per quello ci dobbiamo credere perché è giusto crederci, adesso siamo tutti rammiricati, io sono il primo perché mi sento il primo colpevole di questa sconfitta in semifinale Pro di Champions.